Sono Aura Eternal, ho 24 anni, vengo da Palermo e Gio Gio, sogni uccano. Volevo proprio che Aura stesse significare quello che voglio essere in drag, quindi una percezione, un potere che cresce. Aura nasce dalle vive degli anni 90, ci mettiamo un po' di Gabriella Ferri, un po' di Ornella Vanoni, andiamo anche un pochino indietro a Cher e Tina Turner e quindi Aura nasce dalle influenze delle persone che sanno chi sono. Aura nasce da un panorama di star. Quello che mi piace di più dell'essere drag è come le persone mi trattano in modo diverso rispetto a quando sono Alan e di come proprio Aura cresce in me. Cioè io mi sento potente quando sono in drag, tutto vale. Durante la mia performance quello che non manca mai è l'energia e la voglia di stare su, su quel palco, è la voglia di essere attivamente presente su quello che faccio. Per me essere a Drag Race Italia è un premio per me stesso. Sono qui finalmente per far vedere che posso essere qualsiasi cosa e posso essere anche una persona che arriva all'apice. Io devo essere la next drag superstar. Sono mio beata, faccio cantare, faccio parlare. Ciao ciao. Ciao ciao.